Chiediamo agli abruzzesi un voto ragionato e convinto e soprattutto a chi non ha ancora deciso di votare, di farlo per chi potrà cambiare in meglio l'Italia. Sono le parole di Enrico Di Giuseppe Antonio, coordinatore regionale dell'Udc, che questa mattina, insieme a Paolo Tancredi, coordinatore regionale di Noi con l'Italia, ha presentato in conferenza stampa il gruppo dei candidati di Noi moderati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Composte da Noi con l'Italia, Italia Centro e Coraggio Italia Udc, le liste di Noi moderati per il proporzionale o plurinominale a Camera e Senato correranno a sostegno della coalizione di centrodestra, composta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Nel proporzionale alla Camera sarà capolista Daniele D'Angelo, seguito da Manuela Fini, Antonello Antonelli e Maria Stella Dorazio. Per il Senato, capolista del proporzionale sarà Andrea Maria Colalongo, seguito da Chiara Mancinelli e Francesco Saturni. Nessun candidato, invece, per i collegi dell'Uninominale. Il nostro è un pensiero moderato che punta a riportare fiducia nella politica, ha ribadito Enrico Di Giuseppe Antonio. Per noi è importante esserci, ha aggiunto Paolo Tancredi, e adesso il nostro sforzo è quello di ottenere un risultato tangibile e di eleggere una pattuglia di nostri rappresentanti in Parlamento, con le liste proporzionali che presentiamo oggi. Abbiamo l'ambizione di superare in Abruzzo il 3%, perché crediamo che in questa regione ci siano gli elementi e le potenzialità per una forza come la nostra, che si richiama a pensieri moderati e a tradizioni del cattolicesimo liberale. Tra i principali punti programmatici delle liste di noi moderati c'è il tema fiscale con la riduzione del cuneo, ma soprattutto l'obiettivo da raggiungere dell'autonomia energetica nazionale per far fronte alla crisi che si è aperta in questi ultimi mesi. Per risolverla, annunciato Tancredi, sarà necessario anche valutare il nucleare di quarta generazione.